Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Solo poche ore fa, nella giornata di ieri, Alice Campello e Alvaro Morata avevano comunicato la bella notizia al mondo. È infatti nata Bella, la figlia del calciatore spagnolo e dell'influencer veneziana. Poi, però, qualcosa è andata storta, nella serata di oggi, infatti. L'ex attaccante della Juventus ha fatto sapere che la moglie ha avuto complicazioni dopo il parto ed è ora in terapia intensiva. Alvaro Morata ha pubblicato il seguente post su Instagram. Ieri è nata Bella ed è proprio come la sognavamo. La mamma, purtroppo dopo il parto che è andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice è forte e un po' alla volta si sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi. Sei terremo aggiornati?